Il De Profundis di Oscar Wilde, una delle sue opere sicuramente più note per il contenuto, per le tematiche assolutamente anche attuali. Un'opera che è stata interpretata, a volte mal interpretata nel corso della storia. Oggi andiamo a leggere insieme un estratto e a capire meglio che cosa Oscar Wilde voleva veramente dirci dalla prigione. Ciao a tutti amici di Almaiara, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la letteratura inglese. Oggi parleremo, come vi avevo promesso, in particolare dell'opera di Oscar Wilde, De Profundis. Abbiamo parlato largamente in realtà di Wilde nel mio video appunto su di lui precedentemente, abbiamo parlato della sua vita, delle opere, del ritratto di Dorian Gray che forse è la più nota tra tutte le sue opere, abbiamo parlato dell'estetismo e quant'altro, però in questo contesto vi avevo promesso che avremmo letto insieme un estratto tratto appunto dalla lettera aperta, dal De Profundis, la lettera aperta che lui scrisse in un periodo tragico della sua vita quando si trovò appunto incarcerato, o meglio ai lavori forzati, condannato a due anni di lavori forzati nel reading jail, in prigione naturalmente, a causa, e questa è chiaramente una tematica assolutamente drammatica a causa della sua omosessualità. Ora, quando Wilde si trovava praticamente all'apice del suo successo, della sua fama anche come, in qualche modo, come drammaturgo, come scrittore, come intellettuale e quant'altro, arrivò, esplose questa tragedia nella sua vita, la tragedia dell'incarcere del processo e dell'incarcerazione. Cosa successe? Praticamente tutto era dovuto alla sua amicizia molto stretta con Boese, il cui nome completo era Lord Alfred Douglas, questa amicizia che sfociò in un amore, quindi sfociò sicuramente in un rapporto, diciamo, difficile da accettare per quella moralità estremamente bigotta che sappiamo essere tipica della società vittoriana. Infatti per comprendere questo contesto è necessario, è assolutamente inevitabile dover conoscere quello che era il contesto vittoriano, per l'appunto anche di questo, noi abbiamo parlato tanto, proprio ho il mio video apposito su quella che è l'età vittoriana, su quello che è il Victorian Compromise. Quindi, che cosa intendiamo noi per il bigottismo della società vittoriana? Stiamo parlando di una società che fonda sostanzialmente il suo stesso essere sull'apparenza, su un sistema morale, su un codice morale estremamente rigido, basato su un ideale sociale che è quello della società patriarcale e assolutamente quelle che sono le convenzioni sociali, quello che è il cosiddetto strict moral code, quindi quel codice morale severo, sono assolutamente il pilastro della società stessa sostanzialmente. Naturalmente, come è logico pensare, si tratta di sepolcri imbiancati, si tratta naturalmente di un coperchio che in qualche modo chiude delle realtà molto umane, molto complesse, come d'altronde è tipico della natura umana in qualsiasi epoca, però questa forte operazione di incasellamento è tipica della società vittoriana, per l'appunto. È chiaro che in questo contesto già un personaggio sostanzialmente abbastanza eccentrico, assolutamente anticonformista, come poteva essere Wilde, con la sua vita da dandy, con la sua vita eccentrica per sua natura, viveva un pochino in una situazione di sfida, in qualche maniera, rispetto a questa società vittoriana, ma al tempo stesso la sua particolarità, la sua arte, il suo essere intellettuale, la sua adesione all'estetismo faceva sì che lui facesse parte in realtà di questa società, della società dei salotti, della società della bella conversazione, della ricerca del bello, della frequentazione delle delle alte sfere anche e si permettesse anche il lusso di poter in qualche maniera criticare questa società anche apertamente, per esempio con delle opere teatrali come The Importance of Bean Earnest, di cui abbiamo parlato appunto nel mio scorso video, spiegando come e perché quella fu un'opera di critica sociale, tra le tante in realtà. Ma questa che per la società vittoriana veniva reputata una colpa, un qualcosa che veniva definito da un punto legale gross indecency, quindi un'indecenza volgare in qualche maniera, in qualche modo non è stato perdonato da questa società, come dicevo prima, bigotta, questa società dai paraocchi, insomma come era la società vittoriana. E le cose si sono svolte appunto in questo modo, lui aveva questa amicizia, ufficialmente stretta amicizia, in realtà questo rapporto amoroso con Boese, con Lord Alfred Douglas e questo ha in qualche maniera suscitato l'inimicizia, l'animosità del padre di Boese, che era il Marchese del Marquis of Queensbury. E quindi lui ha reso pubblica questo fatto dell'omosessualità ed è stato in realtà accusato da Wilde di diffamazione sostanzialmente, ma è stato prosciolto, il Marchese è stato prosciolto, viceversa è stato processato lo stesso Wilde per questo reato definito legalmente homosexual offenses, di offese, quindi omosessuale. E' condannato appunto a due anni di lavori forzati presso il Reading Jail e scrive questa lunga lettera aperta, sono 80 pagine di lettera aperta, dei profondi, chiaramente con questo titolo latino, Epistola in carcere et vinculis, sarebbe il titolo completo, pubblicato nel 1898, un'epistola che era totalmente unitaria nel momento in cui è stata resa pubblica, ma oggi noi possiamo sostanzialmente dividerla sostanzialmente in due parti. C'è una prima parte in cui Wilde parla del tempo trascorso insieme a Boese, insieme a Lord Alfred Douglas, al loro tempo insieme, alla loro relazione, al loro rapporto e sebbene lui inizi e concluda la lettera con parole comunque di affetto nei confronti di Boese, a cui la lettera è diciamo formalmente rivolta, in realtà in questa prima parte lui critica aspramente l'amico, l'amante, insomma questo amore della sua vita, questa persona così importante per la sua vita, lo accusa di vanità, ricordiamoci che la vanity, l'aggettivo vain in inglese non significa soltanto vanitoso, come può significare per noi, ma significa anche vuoto, vacuo in qualche modo, lo accusa di arroganza, di debolezza, quasi svincola se stesso dalla decisione di aver intrapreso una relazione più fisica, più sessuale, omosessuale appunto, dicendo che quasi quella relazione che avevano a livello intellettuale era poco stimolante, che quasi lui era stato condotto in quest'altra evoluzione del loro rapporto, quindi insomma prende un pochino anche le distanze da tutto questo, e accusa Bose in modo anche molto forte, come dicevo prima, di questa vanity, di averlo fatto soffrire con delle affermazioni molto precise che lui anche menziona, ad esempio il momento in cui Bose disse When you are not on your pedestal, you are not so interesting, ok? Quando non sei su piedestallo non sei poi così interessante, quindi chiaramente sono le parole di un qualcuno che è legato non alla persona, Oscar Wilde come uomo, come persona, ma semplicemente al suo ruolo, alla sua fama, che è un qualcosa di effimero, anche questa è una tematica estremamente attuale, però attenzione che c'è il perdono da parte di Wilde, è una benevolenza, è un affetto anche conclusivo. Questa è un pochino la prima parte, che riguarda proprio la, come posso dire, la spiegazione dell'aspetto prettamente inerente alla sua relazione. La seconda parte invece è un po' più, è una considerazione un po' più astratta, in cui lui si in qualche modo avvicina alla figura di Gesù Cristo. Gesù Cristo è inteso come un simbolo, naturalmente come un simbolo della Western Kindness, viene definita, quindi quella gentilezza, simbolo della gentilezza occidentale, e invece dall'altra parte della Eastern Serenity, quindi della serenità orientale, insomma quindi un po' un simbolo astratto in qualche maniera. Wilde in questa situazione difende il proprio individualismo, si riconosce come il simbolo appunto di un qualcuno che è stato in qualche maniera crocifisso, vede il suo periodo in prigione, in questo caso, quindi un momento in cui di grande sofferenza che sta vivendo, come in qualche modo un momento di redenzione e quasi di realizzazione. E quindi di qui questo avvicinamento, questo paragone insomma con la figura appunto di Gesù. È importante ricordare che lui stesso, le sue parole, anzi ve le leggo, sono state Quindi io non sono qui per difendere la mia condotta, ma sono qui per spiegarla. Perché è importante questo aspetto? È importante per un motivo molto semplice. Wilde in questo contesto, ma anche altri in realtà, è stato reso spesso manifesto, manifesto di battaglie, di cui lui sostanzialmente non si era fatto carico. Wilde ha vissuto la sua vita secondo la sua estrema, come dicevo, il suo estremo senso di libertà, di libertà affettiva, emotiva, intellettuale, personale, sociale, emancipazione sotto, da qualsiasi punto di vista. Quindi questa figura estremamente complessa non può e non deve, perché sarebbe comunque in qualche maniera un torto che gli viene fatto, non deve essere utilizzata e in qualche maniera, diciamo, sì, eletta quasi a essere portavoce di battaglie che lui in realtà non ha fatto. Perché lui non ha mai teorizzato o non si è mai fatto portavoce di battaglie dicendo questa cosa è giusta, ok, la mia condotta è giusta o quant'altro. Lui non ha mai detto questo. Lui ha cercato di spiegare la sua condotta, di spiegare la sua situazione, di spiegare la sua vita, di spiegare il perché, il per come alcune cose sono successe e chiaramente all'interno di questa spiegazione noi riconosciamo questo grandissimo sostegno per la pluralità del sentire, la pluralità della vita, della percezione, della sessualità, di qualsiasi tipo di prospettiva che possa appunto riguardare la vita. E quindi in questo assolutamente Wilde era un grandissimo, possiamo dire che fosse un grandissimo pioniere tutto sommato. Però, attenzione, pioniere della libertà, dell'anticonformismo, della, come posso dire, del dovere, o meglio, del sostenere il fatto che non bisognerebbe mai giudicare, del fatto che comunque la società possa essere questa entità che schiaccia e che giudica, assolutamente tutte queste cose sono tipiche di Wilde. Dall'altro lato, il fatto che lui abbia scritto un'apologia, in questo caso, o in altri casi, per varie ideologie, piuttosto che modi di sentire, questo in realtà non era l'intenzione di Wilde. Lui l'ha detto chiaramente, io non voglio difendere, io voglio soltanto spiegarvi quella che è stata la verità umana, dal mio punto di vista, è quello che è stato il mio percorso. Non ha mai fatto battaglie per altri Wilde, ok? Non l'ha mai fatto questo, in nessuna situazione, anche in tutti i significati che abbiamo dato al ritratto di Dorian Gray e via così dicendo. Quindi, consapevoli quindi di questo atteggiamento con cui Wilde si è approcciato a questa lunga lettera, che poi sostanzialmente è un grande dramatic monologue, quindi è un grande monologo sostanzialmente drammatico, e la cosa forse proprio più interessante, chiaramente è tutto interessante, ma più attuale, mettiamola così, più forte, più condivisibile e quant'altro, è proprio il suo realizzare l'aspetto ipocrita, bigotto, pericoloso quasi, della società giudicante, della società giudicante che si gira come il cane che morde la mano dell'uomo che prima adorava in qualche maniera. Quindi questo volta faccia in qualche modo poco comprensibile, se non per riconoscendo la stolidità e appunto l'aspetto, ripeto nuovamente, bigotto e assolutamente di gregge in qualche maniera nell'accezione peggiore del termine, che appunto è tipico della società vittoriana, punto interrogativo, qui io potrei dire forse anche della società attuale, e riguarda sicuramente tematiche come quella di cui parla Wild, ma riguarda chiaramente anche tantissime altre tematiche, perché purtroppo è proprio caratteristica della massa in generale, sostanzialmente. Oggi la nostra società si sente tanto moderna rispetto alla società vittoriana, molto spinsa di aver sdoganato tante cose, ma in realtà i meccanismi sono proprio gli stessi, e per questo andiamo a leggere insieme un estratto che parla proprio di questa cosa qua, di quando Wild è stato trasferito sostanzialmente nel carcere e si trova ad un convoglio ferroviario, ammanettato, quindi intenuta da Galeotto, e attira l'attenzione delle persone che passano, prima non in quanto Oscar Wilde, ma semplicemente in quanto Galeotto, e quindi la loro curiosità, lo scherno, le risate, questo approcciarsi in modo assolutamente sgradevole, accusatorio, irrisorio. Poi, il secondo passaggio che per lui è fondamentale, è quando si sono accorti che ero proprio io, che ero proprio Oscar Wilde, questo non ha generato in loro più compassione, perché fino a prima mi stimavano, perché comunque mi avevano in qualche modo eretto a chissà quale idolo. Viceversa, l'essere nel fango ha stimolato ancora di più l'aggressione, il ripudio da parte della società. E questo è un passaggio interessante su cui lui appunto riflette. E poi parla appunto del discorso dell'individualismo. Quindi proviamo a leggerlo un pochino insieme. On the 13th November 1895, quindi lui ci dà addirittura una data ben precisa, I was brought down here from London. From two o'clock till half past two on that day, I had to stand on the center platform of Clapham Junction, in convict dress and handcuffed for the world to look at. E questa è un po' la contestualizzazione di cui vi parlavo prima. Quindi il 13 novembre 1895 sono stato portato qui, qui lui naturalmente è in carcere ancora quando scrive, da Londra. Dalle due in punto fino a circa le due e mezza, quindi grossomodo una mezz'ora quel giorno, ho dovuto stare fermo, stand, stare in piedi, fermo, on the center platform of Clapham Junction. Clapham Junction è una stazione, una stazione ferroviaria di Londra, quindi lui è stato sostanzialmente fermo lì, in stazione, in abiti, come dicevo prima, da galeotto, ammanettato, handcuffed for the world to look at. Quindi lì perché il mondo mi vedesse. Quindi c'è questo senso del pubblico ludibrio, in qualche modo, dell'esposizione al pubblico. I had been taken out of the hospital ward without a moment's notice even given to me. Of all possible objects, I was the most grotesque. Questo è molto interessante. Lì mi hanno portato fuori dall'ospedale, dal costriere ospedale, senza che mi fosse dato neanche un attimo di preavviso, sostanzialmente. E in quel contesto, quindi lo immaginiamo, lui era così attento anche all'apparenza, Andy ben vestito, tutto quanto, era lì arruffato, uscito dall'ospedale, in questa banchina della stazione, vestito da carcerato, con le manette, lo immaginiamo arruffato, lo immaginiamo... e lui dice, di tutti i possibili oggetti al mondo, io ero in assoluto il più grottesco. Oggetti. In quel momento viene spersonalizzato, e quasi perde la degnità di essere umano, per diventare un oggetto di irrisione, un oggetto di presa in giro, sostanzialmente. Per il pubblico ludibrio, come dicevo prima. When people saw me, they laughed. Quindi quando le persone mi vedevano, ridevano. E quindi qui già la natura delle persone, che non è una natura compassionate, non è che quando vedono qualcuno in una situazione così, sostanzialmente drammatica, si dispiacciono, o passano oltre, ma si fermano a ridere. Each train, as it came up, swelled the audience. Nothing could exceed their amusement. Quindi non soltanto la risatina, ma ogni treno che passava, andava a gonfiare, ad allargare le fila di questo audience, di queste persone che si fermavano a guardarmi, e sembrava che niente potesse farli divertire di più. Quindi la disgrazia altrui è fonte di maggior divertimento. Ecco qui che non è neanche più importante in questo momento il perché Wilde è in quel contesto, in quella situazione, che è ovvio, è riprovevole, è sbagliato, è odioso, è assolutamente fuori da ogni logica umana, di diritti e quant'altro, ma va al di là. Lui dice qualcosa in più. Lui ci dice, in quel contesto mio, ma forse è stata qualsiasi altra cosa, quello che sto dicendo adesso è un qualcosa di assolutamente universale, una reazione universale che l'uomo, che la società ha nei confronti della disgrazia umana, ok? Qualsiasi sia il motivo o l'ingiustizia che ha condotto appunto l'uomo, la persona, a essere in una situazione di tale appunto disgrazie. That was, attenzione, of course, before they knew who I was. Quindi questo, tutto questo, il fatto di ridere, di fermarsi, più persone, più arrivavano in treni, più arrivavano le persone a ridere, questo è stato prima che sapessero chi fossi io. Prima che sapessero che io fossi il famoso Oscar Wilde. Possiamo immaginare questa scena tremenda, no? Per chiunque. Lui dice, appena appunto sapevano chi fossi, ridevano ancora di più. Per mezz'ora sono stato là, nella grigia pioggia novembrina, circondato da un Jiren mob, che è un gruppo, questa folla che schernisce, questa folla di leggente in qualche modo. Quindi questo passaggio grave, importante, molto, veramente mette le persone in una luce veramente negativa, cioè la mancanza totale di compassion, di compassione, il fatto di appunto di spingere ancora più in basso qualcuno che si trova in una condizione chiaramente sfortunata in quel momento e in più, conoscendo chi sei, questo fa ancora più ridere, questo fa ancora, stimola ancora di più la risata quasi da Iena della gente. For a year after that was done to me, I wept every day at the same hour and for the same space of time. That is not such a tragic thing as possible as it sounds to you. To those who are in prison, tears are part of every day's experience. A day in prison on which one does not weep is a day in which one's heart is art, not a day on which one's heart is happy. Allora, qui ci dice da quel giorno in poi io a quell'ora, quindi alle due e per lo stesso lasso di tempo, quindi per quella mezz'ora, ho pianto in ricordo ogni giorno di quel momento. Quindi è stata tale la vergogna, è stato tale il trauma che lui ha subito che ogni giorno a quell'ora è come fosse una scadenza in cui lui ripercorre lo stesso trauma, piange di nuovo la stessa sofferenza, piange di nuovo la stessa umiliazione per quella mezz'ora di, come dicevo prima, di gogna, di pubblica gogna. Poi però va avanti e dice il fatto di piangere per mezz'ora is not such a tragic thing as it possibly sounds to you, quindi non è una cosa così tragica come voi possiate pensare il fatto di piangere quando si è in prigione. Infatti ci dice per coloro che sono in prigione, incarcerati, le lacrime sono parte dell'esperienza della vita di tutti i giorni e un giorno in prigione in cui una persona non pianga, in cui non ci siano lacrime è un giorno in cui il cuore di quella persona è duro, è riarso, ok? E non certamente un giorno in cui il cuore di quella persona è felice. Quindi se non si piange, se non si manifesta la sofferenza è soltanto per, non lo so, oggi forse potremmo chiamarla depressione, non ha importanza. Comunque per un momento di inaredimento in cui il cuore è drained potremmo dire in inglese e non certamente un momento di sollievo in cui non si piange perché si è sollevati, perché si è felici. non si piange, really beginning to feel more regret for the people who laughed than for myself. Of course, when they saw me, I was not on my pedestal, I was in the pillory. But it is a very unimaginative nature that only cares for people on their pedestal. A pedestal may be a very unreal thing, a pillory is a terrific reality. They should have known also how to interpret sorrow better. I have said that behind sorrow there is always a soul, and to mock at the soul in pain is a dreadful thing. Allora, qui ci sono in poche righe tante 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 cose da dire. Al di là del riferimento al pedestal, vi ricordate quello che ho detto prima di Bosie, ma adesso ci arriviamo. Lui parte dicendo, ora inizio a sentire più dispiacere quasi per le persone che ridevano di me di quanto non è senta per me stesso. Quindi c'è questo slittamento, cioè quel senso di vergogna passa da se stesso a quelle persone che si sono comportate in modo tanto spregevole. E questo è sicuramente una... logicamente condivisibile. E poi ci dice una cosa interessante, che è di un'attualità disarmante, al di là, come dicevo prima, delle interpretazioni, delle, come posso dire, non voglio dire manipolazioni, ma delle strumentalizzazioni. E' sempre brutto strumentalizzare le opere per adattarle a varie situazioni. Quando il messaggio in sé, senza bisogno di essere modificato, manipolato, è già così incredibilmente forte e attuale. Lui ci sta parlando di se stesso che viene messo all'agonia, oggi sarebbe un'agonia mediatica magari, all'epoca era qualcosa di... volendo più limitato, perché si trovava solo lì nella stazione. Però l'impatto sull'uomo sostanzialmente è uguale in questo caso, per una non colpa naturalmente, perché stiamo parlando di un diritto, di una cosa normalissima. Insomma, per cui, logicamente, è una società folle dell'epoca, lui era stato processato. E in ogni caso lui ci dice una cosa importante. Io, fino a poco prima, stavo sul famoso piedistallo. E quel piedistallo è fittizio, è molto, purtroppo, più reale, è molto più reale la famosa gogna, il famoso fanco in cui puoi essere gettato. Purtroppo è molto più vero quello. Essere sul piedistallo non è garanzia di niente, non è reale, non è garanzia dell'affetto, della stima, del sostegno delle persone. Viceversa, quando sei a fondo, ti rendi conto della realtà delle cose. Leggiamo proprio, traduciamo bene, lui dice appunto, il discorso ho iniziato a sentire più dispiacere, più regret per le persone che hanno riso di me piuttosto che per me stesso. Ovviamente, quando loro, queste persone chiaramente mi videro, non me ne stavo sul mio piedistallo. Stavo nella gogna, ero nella gogna. Ma è soltanto una natura priva di immaginazione che si cura delle persone solo nel momento in cui stanno sui loro piedistalli. Perché un piedistallo può essere una cosa molto irreale, mentre una gogna è una tremenda realtà. Avrebbero dovuto anche sapere come interpretare meglio il dolore, il sorrow, quindi parliamo di un dolore chiaramente emotivo in qualche maniera. Perché avrebbero dovuto interpretare meglio il dolore, questo dolore di Oscar Wilde in quel momento specifico, ma dell'umanità, delle persone in senso generale. Lui ci dice per quale motivo. Ci dice, io in qualche modo si sente come se avesse cercato di educare questa società prima del verificarsi di questa situazione. E quindi si aspettasse da parte loro una reazione diversa, perché aveva spiegato loro come ci si dovrebbe comportare, cosa si dovrebbe provare. E infatti ci dice, I have said that behind sorrow there is always a soul, and to mock at a soul in pain is a dreadful thing. Quindi avevo detto, ho detto, che dietro al dolore, quindi insomma, alla base diciamo del dolore, c'è sempre un'anima. E prendersi gioco, ok? Ridere, dileggiare, prendersi gioco di un'anima che soffre, che prova dolore, è una cosa orribile, è una cosa terrificante. E prosegue in realtà l'epistola e poi riprende lui un punto, riprende lui un punto abbastanza particolare, che è legato a quello che vi dicevo quando ho accennato a questa sua assimilazione di se stesso, la figura di Gesù Cristo, e al fatto, al concetto di individualismo, quello che lui intende per individualismo, che cambia leggermente adesso, neanche tanto leggermente, cambia adesso rispetto a quello che era l'individualismo di cui parlava all'inizio, nella sua giovinezza da esteta. Vediamo cosa intendiamo. Fermiamoci. per capire. Lui dice, ok, mi hanno sempre detto sostanzialmente che fossi un individualista, fossi un troppo individualista, in qualche maniera. Beh, ora, adesso che so tutto questo, che sono stato messo di fronte a tutto questo, devo diventare un tanto più individualista di quanto non lo sia mai stato prima. E infatti devo, in qualche modo, prendere ancora di più da me stesso e chiedere ancora meno agli altri, meno di quanto non abbia mai fatto. Infatti, la mia rovina non è venuta dal mio troppo grande individualismo, quindi da un individualismo troppo spiccato, da un individualismo nel mio stile di vita troppo evidente, troppo forte, ma dal fatto di averne avuto too little, troppo poco. Once I had put into motion the forces of society, society turned on me and said, Have you been living all this time in defiance of my laws? And do you now appeal to those laws for protection? You shall have those laws exercised to the full. You shall abide by what you have appealed to. The result is I am in jail. Allora, in questo punto è molto importante capire che lui si riferisce alla società come se fosse un effettivo, unico personaggio contro cui si scontra. Infatti notate che la society, per quanto lui ne parli evidentemente male in modo critico, ha la lettera maiuscola, la capital letter, perché in qualche modo è come se fosse un nome proprio, come se la società fosse un unico, un'unica entità, lo è in realtà, in qualche modo un'unica entità che si muove e un unico interlocutore con cui lui si confronta, in qualche modo. E lui dice, quindi la cosa, diciamo, più disgraziata, imperdonabile, assolutamente riprovevole che ho fatto è stata quella di consentire a me stesso di appellarmi, di chiedere alla società, in qualche maniera, aiuto e protezione. Il fatto di aver fatto questo appello, di essermi appoggiato, di aver creduto, di essere di peso, ok, o di pensare di poter dipendere dalla società, dal punto di vista dell'individualista, quindi dal punto di vista individualistico, è già sufficientemente male, ok, quindi è già una cosa sbagliata. Ma che scusa posso in qualche modo portare per il fatto di aver fatto questa scelta? Beh, è ovvio che lui dice, Quindi nel momento in cui ho messo in moto il meccanismo della società, quella stessa società si è rivoltata contro di me e mi ha detto, e addirittura la società ci parla, con un discorso diretto delle virgolette, come se fosse proprio un individuo, il giudice stesso, che emette in qualche maniera la sua sentenza, fuori dal tribunale. E dice, tu hai vissuto per tutti questi anni sfidando sostanzialmente le mie leggi, le mie della società, quindi non stiamo parlando del legal system, non stiamo parlando del sistema legale qua, non ci interessa il sistema legale, stiamo parlando dello strict moral code della Victorian age, ok? Quindi, come dicevo prima, lui ha vissuto sempre al limite, ok, di quella accettazione morale, ok? giocando anche un pochino con questa sfida della moralità pubblica e naturalmente, come dicevo prima, criticandola anche pesantemente, criticando le apparenze, criticando tutto l'aspetto, diciamo, dell'intero impianto, diciamo, strutturale di questa società, che fondamentalmente si basava, come si diceva prima, su un sistema di convenzioni. Quindi, questa società dice, hai vissuto tutto questo tempo sfidando le mie leggi e adesso ti appelli a quelle leggi per protezione? Adesso tu vedrai quelle leggi esercitate contro di te, ok? A pieno, ok? E alla fine ti troverai a sottometterti, a rispettare ciò a cui ti sei appellato. Il risultato è che sono in prigione. Quindi, in sostanza, lui si autocolpevolizza per quella che è stata la sua relazione con la società in due diversi, sotto due diversi aspetti. Il primo aspetto, quello che diceva, che ha detto prima, cioè il fatto di non essere forse riuscito ad educarli a sufficienza, laddove lui aveva cercato di sottoporre o di far riflettere su alcuni aspetti della società e del dolore individuale, che va comunque rispettato, gli si rende conto di aver fallito. Secondo errore è quello di non essere stato ancora più individualista. Quindi, cosa intendiamo per individualismo? Intendiamo bastare a se stesso, non andare alla ricerca del consenso della società, quindi del piedestallo di cui parlavamo prima, ma bastare a se stesso. Perché nel momento in cui si fa appello ad una società, ad una serie di leggi, per così dire, morali di cui la società, come nel suo caso, si è vissuto anche sfidandole, affidandole, questa cosa si può facilmente rivoltare contro di sé. Logicamente lui si sta riferendo a un fatto molto preciso e molto chiaro, cioè il momento in cui lui ha fatto appello alla società, e quindi in qualche modo si è affidato alla società, è stato il momento in cui lui ha accusato il Marchese, del Marquis of Queensbury, di diffamazione, giusto? Come dicevo prima, è stato prosciolto, e viceversa la cosa si è girata contro Wilde stesso, perché avendo messo in moto quel meccanismo, praticamente, poi dopo è partita invece, è partito invece per lui, il processo per omosessualità. Quindi questo era stato un po' il punto in cui lui aveva quasi peccato di fiducia, nel volersi affidare appunto a quei meccanismi sociali che aveva sfidato per tutta la vita. Quindi questa azione è stata quella che secondo lui poi ha costituito quella chiave di volta che in qualche maniera poi ha messo in moto tutto il processo che l'ha portato appunto fino alla prigione. Ora, noi cosa possiamo dire di tutto questo? Non viviamo durante la società vittoriana, ringraziando il cielo, ringraziando chi ha fatto battaglie fino ad oggi perché questo accadesse. Per fortuna non esistono più condanne legali come quella che ha subito Oscar Wilde. Ma esiste ancora il concetto di pubblica, vergogna, di pubblica agogna, di pubblico ludibrio? Esiste ancora il fatto di essere elevati, sul famoso piedestallo, dalla società. Oggi non parleremo di teatri, magari parleremo di televisione, magari parliamo di social media. Esiste ancora il fatto di pensare di poter giocare con questo strumento di fama per poi vederlo rovesciato su se stesso quando ci si trova poi alla fine da soli, quando ci si trova ai minimi storici e rendersi conto quindi che quella fama era assolutamente effimera e che purtroppo invece tante volte la condizione di sofferenza risulta più reale. Esiste ancora il concetto di una società che sembra quasi affamata di condanna qualsiasi sia la presunta colpa e quindi sia affamata del saltare addosso a qualcuno e privarlo della sua dignità o qualsiasi altra cosa per ridere, per incolpare, per accusare perché forse quello è quasi un modo per fuggire alla realtà di ciascuno e quindi il fatto di sfogare l'ira su una terza persona che in quel momento è in situazione di difficoltà purtroppo pare alla massa che sia in qualche maniera galvanizzante piuttosto che catartico. Purtroppo esistono ancora questi meccanismi decisamente sì cioè stiamo parlando di meccanismi sociali che sono rimasti identici che stiamo parlando di meccanismi sociali che non sono cambiati minimamente sono cambiati gli strumenti di comunicazione sono cambiati stiamo parlando ora chiaramente attraverso uno strumento di comunicazione che sarebbe stato impensabile all'epoca però stiamo ancora parlando di una mentalità chiusa stiamo ancora parlando di una moralità ancora estremamente bigotta per tanti versi d'accordo si spostano voglio sperare nei secoli lasticelle però tant'è tant'è l'attualità insomma di quello che ci sta dicendo Wiley e che ci sta dicendo non per istruirci non più non gli interessa più in questo momento non gli interesserà più neanche dopo istruire nessuno non gli interessa più lui ha perso questo tipo di fiducia ha perso questo tipo di forse non gli è neanche mai interessato in realtà adesso lo dice però come abbiamo visto nel ritratto di Dorian Gray non c'è mai un'intenzione diciamo fortemente né di condanna né di sostegno rispetto alle tesi che lui prospetta però esistono sicuramente alcuni elementi di forte critica che portano per forza alla riflessione sicuramente ad esempio e soprattutto nelle commedie allora lui questa cosa adesso non interessa più lui ci sta dicendo questo per spiegare se stesso per non giustificare per spiegare e in qualche modo andare a riaffermare la propria dignità in un contesto in cui era stata lesa in cui era stata tolta e noi oggi non dobbiamo aggiungere niente a questo perché è già sufficiente quello che ci viene detto quindi a noi è sufficiente leggere capire contestualizzare rendere assoluti e universali alcuni concetti trasportarli al mondo d'oggi nelle epoche passate nelle epoche future temo adesso non voglio fare così l'orwelliana per forza però probabilmente e il gioco è fatto senza bisogno di attribuire a Wilde manifesti che lui non ha scritto quindi questo è l'aspetto interessante io credo di questa come di tante altre opere letterarie cioè il fatto che siano già attuali di per sé e siano interessanti le interpretazioni che diamo e che diamo nel corso della storia perché possiamo fare tutta una serie di confronti senza per questo andare a snaturarli anche per rispetto nei confronti di chi l'ha scritto l'ha scritto in un momento di grande sofferenza questo è un primo approccio una visione così a volo d'uccello su De Profundis io spero che vi sia interessata se avete piacere possiamo leggere ancora qualcosa di Wilde di altri autori fatemi sapere di chi e magari analizzare insieme naturalmente come sapete questo video poi lo farò anche in inglese in modo da consentire appunto l'ascolto chiunque debba fare una trattazione sull'argomento di avere direttamente anche il video in lingua originale permettetevi di ringraziarvi brevissimamente ma davvero voglio farlo di cuore ringrazio tutti quelli tra voi che sostengono il canale tramite Paypal è una cosa che io apprezzo sotto tantissimi punti di vista e su moltissimi livelli quello chiaramente personale e la gratificazione che mi dà la spontaneità di un vostro gesto soprattutto dal momento che non viene richiesto diciamo come iscrizione il fatto di che io vi in qualche modo proponga in maniera assolutamente libera un qualcosa voi pensiate lo stesso di fare questo gesto è un qualcosa di estremamente gratificante un qualcosa che diciamo da parte mia è motivo anche di grande stima perché il fatto di prendere qualcosa e di pensare che valga e quindi di in qualche modo pensare di fare un gesto in cambio è un qualcosa di molto bello in una società in cui si arraffa sempre tutto quindi io vi ringrazio veramente di cuore per la vostra generosità per il vostro e per il vostro proprio sostegno anche pratico perché dicevo su tanti livelli uno di questi è proprio il fatto che questa è un'attività che si mantiene naturalmente è un'attività gratuita e può anche fiorire espandersi grazie a queste a queste a queste vostre iniziative vi ricordo che il tasto di paypal è sempre sulla home page del canale e se invece decidete di farlo da altri o da paypal direttamente l'indirizzo email a cui inviare eventualmente un vostro contributo è sempre quello a cui mi iscrivete normalmente quando scrivete le email quindi ci vediamo presto ci vediamo prestissimo con la letteratura inglese con la lingua inglese con la lingua tedesca riprenderò anche la lingua italiana prometto che riprendo la letteratura tedesca scusatemi ho avuto veramente tanto 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 da fare in questo periodo ma ci siamo ok grazie infinite grazie a tutti quanti voi un grandissimo bacio grazie a tutti